In provincia di Lecco crescono morti e incidenti sul lavoro, un fenomeno complesso determinato da diverse cause come è emerso nel recente convegno promosso dall'Ina e il Lecco. Le leggi ci sono, mancano invece gli ispettori che verifichino il rispetto delle norme. Ci sono aziende e aziende, diciamo che c'è una illegalità diffusa, ma non soltanto nel campo imprenditoriale. Ricordiamoci che la sicurezza si applica anche nella pubblica amministrazione. Non ci sono molti ispettori in Italia. Negli ultimi dieci anni gli ispettori delle ASL sono stati dimezzati e gli ispettori del lavoro devono ancora essere assunti, quelli di cui si promette l'assunzione. È ovvio che quindi siamo con una scarsità di risorse che poi indebolisce tutto il sistema giudiziario. Tra le prime cause di decesso restano gli incidenti in itinere, ovvero quelli che accadono mentre ci si reca sul posto di lavoro. Su questo fronte servono interventi di sensibilizzazione e prevenzione. Gli infortuni aumentano soprattutto fuori dagli ambienti di lavoro. Allora questo è indice di una rischiosità che è legata, per esempio, al rischio strada. Quindi infortuni legati alla circolazione dei mezzi, all'uso delle autovetture, alla condizione della strada, alla distrazione. Sono fenomeni che vanno studiati ma che riguardano situazioni che accadono fuori dai luoghi di lavoro. Anche su questo dobbiamo intervenire e capire. Poi ci sono stati anche dei fenomeni per quanto riguarda, per esempio, il dato della Lombardia. Va detto anche questo. Nel 2018, infortuni plurimi che hanno riguardato la nostra regione. Penso al caso della Lamina a Milano, penso all'infortunio che è accaduto a Treviglio, penso all'incidente ferroviario di Pioltello che hanno visto purtroppo un bilancio tragico per quanto riguarda gli infortuni mortali. Questo sicuramente ha inciso sul dato statistico. Grazie a tutti.